Uno degli ultimi interventi è quello di Loris Vergolini dell'IRVAP, che parla di espansioni e contrazioni della partecipazione scolastica in Italia dall'inizio del XX secolo ad oggi. A lui chiediamo qual è il ruolo delle riforme scolastiche e delle vicende economiche. Per quanto riguarda le riforme scolastiche, quello che noi abbiamo visto dalla nostra ricerca è che esse sono riuscite quasi sempre ad incrementare i tassi di partecipazione degli italiani all'interno del sistema scolastico, con l'unica eccezione della riforma gentile, che vista la sua natura elitaria, quello che è riuscito a fare invece è stato quello di contrarre la domanda di istituzione scolastica. Poi per quanto riguarda in particolare le riforme universitarie, quello che abbiamo visto è che in particolare quella della liberalizzazione del 69 e la riforma del Brogna Process del 2001 hanno avuto notevoli impatti sulla partecipazione, col problema però di averle avuto solo nel breve periodo. Infatti quello che si osserva nei dati, anche guardando il punto meramente descrittivo, quello che si vede è che dopo l'espansione indotta da queste riforme, quello che si è avuto invece è stato dopo un drastico calo nei tassi di matricolazione. Per quanto riguarda invece il discorso sulle crisi economiche, il discorso si fa un pochino più complesso, in quanto per quanto riguarda la partecipazione alle scuole secondarie, in questi casi gli effetti delle crisi economiche sono molto ridotti e la maggior parte dei casi negligibili, pari a zero sostanzialmente. Hanno invece degli effetti fortemente negativi per quanto riguarda la partecipazione alle università. In particolare abbiamo osservato dei cali drastici nella partecipazione dopo la crisi del 2008 e anche dopo le crisi economiche e petrolifere degli anni 70. In questo caso la maggiore incidenza delle crisi economiche sulla partecipazione universitaria è spiegabile se si rammenta il fatto che comunque questo tipo di istruzione non è gratuita come lo invece tutta la scuola dell'obbligo. Quindi i costi diretti ed indiretti per partecipare all'università sono decisamente maggiori ed è per questo che una contrazione di risorse economiche dovuta alla crisi economica può avere degli impatti negativi sulla partecipazione all'università.